La musica dei ragazzi di sei scuole superiori della Toscana rompe il muro di silenzio che avvolge la violenza di genere. Le loro canzoni sono state raccolte nel CD Mai in silenzio, presentato nella sede della Presidenza della Regione Toscana al termine del progetto contro la violenza della Regione stessa realizzato da Controradio. Brani in parte già cantati in occasione del meeting dei diritti umani al Mandela Forum lo scorso dicembre, perché per combattere gli atteggiamenti sessisti che precedono di solito la violenza bisogna parlare oppure cantare. Il progetto voleva essere un progetto che contrastava la violenza di genere attraverso la musica che è un elemento molto familiare ai ragazzi. Infatti l'idea è quella che la cultura, iniziando già fin da giovani, possa contrastare questo fenomeno. I ragazzi coinvolti nel progetto arrivano dai licei musicali Passaglia di Lucca, Niccolini Palli di Livorno, Petrarca di Arezzo, Forte Guerri di Pistoia, Carducci di Pisa e dal linguistico Marco Polo di Firenze. Con il loro tutor hanno dato libero sfogo alla loro vena musicale, con risultati sorprendenti. È stato uno scambio di idee, di opinioni, di mentalità, di età diverse, però tutti ci siamo uniti per raccontare la violenza di genere. È stato sicuramente impegnativo da un certo punto di vista, perché entrare in un argomento così importante, cercare di arrivare ai giovani, che poi la musica è il linguaggio migliore per arrivare ai giovani, è stato entusiasmante, ma neanche facilissimo. Quelli finiti nelle tracce del CD mai in silenzio sono sei urli di denuncia, sei inviti a non tacere messi in musica a partire dalle storie vere di donne che hanno subito violenza e per i ragazzi è stata una grande occasione di crescita. È stata una bella esperienza sicuramente e soprattutto al di là del concerto del Mandela, che è stata la ciliegina sulla torta, c'è stato un bel rapporto tra di noi e è stato molto bello lavorare insieme. Siamo stati coinvolti mediante un professore e c'eravamo già scanditi un po' i ruoli e io insieme ad altre ragazze abbiamo preso ispirazione da questo libro e abbiamo scritto il testo. Dopodiché ci siamo ritrovati in realtà a fare un po' tutto tutti. Un progetto con cui, dopo il successo di Toscana 100 Band, la regione toscana si è rivolta di nuovo ai giovani. Le canzoni raccolte nel CD mai in silenzio possono essere scaricate e ascoltate gratuitamente online e i download sono già oltre 10.000.